Ciao ragazzi nerazzurri, benvenuti nel canale di notizie dell'Inter, iscrivetevi e attivate la campanella per essere avvisati quando escono nuove notizie sull'Inter qui, andiamo. Il difensore Milan Skriniar, 27 anni, avrà un incontro con il consiglio dell'Inter per rinnovare il suo contratto con il club italiano. Il legame tra le parti si esaurisce al termine della stagione in corso e Skriniar sarà libero sul mercato per accontentarsi di qualsiasi altro club. Per questo il CDA dell'Inter vuole anticipare un possibile addio del difensore. La notizia dell'incontro tra le parti è stata confermata dal sito Calcio Mercato, specializzato principalmente in trasferimenti che coinvolgono club italiani. La trattativa sarà condotta dall'agente di Skriniar, che ha già in mano tutte le richieste del difensore. L'intenzione è quella di restare nell'Inter. Skriniar è nel club italiano dalla stagione 2017-18 e si è affermato come uno dei migliori difensori del calcio europeo. Ad inizio stagione il giocatore era vicino all'accordo con il Paris Saint-Germain, ma l'Inter è riuscita a garantirgli la permanenza per almeno un'altra stagione, fino alla fine del vincolo. Sebbene Skriniar non rinnovi il contratto, alcuni club sembrano interessati al giocatore e potrebbero avanzare proposte per la firma precontrattuale. Nonostante questo, il CDA dell'Inter ha la priorità e la possibilità di garantire già più a lungo il difensore. L'aspettativa è che il successo venga confermato nelle prossime settimane. Lascia la tua opinione nei commenti, lascia il tuo mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perderti le prossime news inter. A più tardi.